Ora, il ritratto del Paese che emerge dal rapporto 2014 è innanzitutto quello di un'Italia in grande sofferenza. Un'Italia in grande sofferenza a causa della crisi economica, una crisi che ha messo a dura prova la tenuta del nostro tessuto sociale. Alcuni dati sono impressionanti e ci trasmettono un messaggio di allarme che dovrebbe indurre veramente a interventi immediati. Penso ad esempio ai dati sulla povertà, ne parlavamo prima con il Presidente, milioni di uomini e di donne che non possono permettersi neppure la spesa minima necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi considerati essenziali, essenziali per condurre uno standard di vita che possa minimamente definirsi accettabile e dignitosa. Sono dati difficilmente compatibili con quei doveri inderogabili di solidarietà sociale iscritti fra i principi fondamentali della nostra Costituzione.